Con i consigliari comunali del Movimento 5 Stelle in mano una mozione di sfiducia per un assessore della Giunta Ghinelli, di che si tratta? Si tratta a nostro avviso di una incompatibilità, quindi ricopre una carica che per quello che dice la legge, per quello che abbiamo potuto riscontrare e per quello che poi abbiamo riportato su questa mozione già depositata risulta incompatibile per il suo ruolo. Oltretutto è incompatibile perché? Perché ricopre una carica dirigenziale all'interno di CSAI Impianti in cui questa azienda pubblico-privata gestisce due ridiscarichi. Quindi dal nostro punto di vista, essendo anche CSAI all'interno di Sè Toscana, ci sembra un'incompatibilità per un conflitto di interessi di fatto. Ecco, parliamo dell'assessore Marco Sacchetti che è proprio assessore anche con delega ai rifiuti. Il punto è proprio questo perché anche noi come consiglieri quando presentiamo delle interrogazioni e chiediamo ragioni per cui, che ne so, l'ultima è stata che abbiamo importato i rifiuti da Firenze eccetera, io come consigliere non mi fido più delle risposte che un assessore mi può dare perché io non so più se il ruolo, se la risposta mi viene data dal dirigente Sacchetti o dall'assessore Sacchetti perché uno dei due ruoli è incompatibile con l'altro. Non capisco più se risponde proprio per tutelare gli interessi della comune oppure gli interessi della società CSAI. Una cosa importante che volevo dire, oltre al fatto che noi notiamo che secondo noi è grave, che nell'allegato A, in cui lui dichiara i lavori che svolge per un discorso di trasparenza, lui ha omesso di indicare che è dirigente presso la CSAI. È una cosa grave. Questa è una violazione al regolamento sulla trasparenza amministrativa? Sicuramente, sicuramente questa è una mancanza senza voler dire che è stata fatta apposta per non darne nell'occhio, questo non lo vogliamo certo insinuare, però diciamo così è una persona di buon senso, viene il dubbio.